Buonasera, oggi vorrei iniziare questa presentazione che racconta storie, storie di donne, perché Amnesty International è convinta che fra le grandi sfide di questi secolo che riguardano i diritti umani ci siano proprio i diritti delle donne. Può apparire strano che ancora si deve parlare di diritti delle donne, ma in un periodo come questo, in cui c'è una grossa crisi, probabilmente si deve invece ritornare da un lato a riflettere su cosa questi diritti sono e dall'altro ad affrontare e a vedere cosa le donne stanno facendo nel mondo. E oggi io vi vorrei parlare delle donne che stanno lottando in Medio Oriente e in Nord Africa. Vorrei iniziare con questa donna, che in realtà è una bambina, la vedete qui, questa bambina è una foto del 92 e ve la mostro perché questa bambina all'inizio degli anni 2000 è morta, si è fatta saltare in aria come kamikaze, è uscita dal suo campo profughi dove viveva a Betlemme ed è andata in Israele. Ho deciso di mettere questa foto qui oggi perché ovviamente per quello che sta succedendo a Gaza in questi giorni e perché mi ha suscitato una riflessione. che cosa sapevamo noi di questa donna, di questa bambina o di lei quando si è fatta saltare in aria e che cosa invece sappiamo di queste donne che sono coloro che hanno guidato nell'ultimi due anni sostanzialmente le rivoluzioni nei paesi arabi. Queste sono donne che non solo hanno partecipato alle rivolte in Egitto, in Tunisia, che stanno lottando in Siria, in Bahrain, ma le hanno proprio guidate. Le foto che vedete qui sono quelle di un'altra ragazza che si chiama Zainab, è una delle leader della lotta per i diritti umani in Bahrain, che è un paese del Golfo. Lei non fa molto, si siede sostanzialmente nel traffico da sola, ma è diventata talmente pericolosa per il suo governo che è stata arrestata e processata ben 15 volte, è stata torturata, ma a differenza della bambina di prima sappiamo molto di lei perché è una ragazza che grazie alla comunicazione, ai social media, soprattutto grazie a Twitter essenzialmente, ci fa conoscere, fa conoscere a chiunque voglia seguirla minuto per minuto, ora per ora, tutto quello che succede nel suo paese e quello a cui lei assiste. Assistiamo anche in sua compagnia o di chi la segue, ai suoi processi e a cosa succede quando lei esce dal carcere. Queste sono tutte donne, come vedete, donne velate e non sono più da sole rispetto a quanto accadeva vent'anni fa. Ed è la grossa, grandissima differenza che ci permette di metterci in relazione in maniera molto diversa con loro. Io in Palestina ho vissuto cinque anni e mi ricordo cosa facevamo per sostenere le bambine e le donne come quella che avete visto prima. Noi sostanzialmente esportavamo dei modelli e cercavamo di aiutarle a sostenersi da sole. Ma quello che effettivamente mancava e che adesso c'è è una grande possibilità di messa in rete, di messa in condivisione e di un concetto completamente nuovo di partecipazione che rende possibile a chi adesso è qui da questa parte, chi sembra essere anche molto lontano da loro, in realtà di far sentire loro la nostra comprensione e la nostra partecipazione molto vicina. Questa è un'opportunità enorme, non solo per donne come queste, ma anche per noi, perché ci permette di mettere in comune esperienze che potrebbero apparire fondamentalmente molto lontane. Il lavoro che Amnesty International vuole fare e sta cominciando a fare con queste donne è proprio questo, quello di mettere in relazione e in forte condivisione, grazie anche alle tecnologie, l'attivismo di persone che come noi si trovano in paesi che non si trovano in situazioni così gravi e che permette però di aiutare molto bene e anche facendo molta pressione sui governi di questi paesi per aiutare le donne come loro. La cosa più toccante anche quando si parla con queste donne è di poter sentire e toccare effettivamente con mano quella che è la loro esperienza. Qualche giorno fa ci è venuta a trovare un'attivista siriana che è dovuta scappare dalla Siria con due bambini molto piccoli perché era stata ripetutamente arrestata e sottoposta a torture e a trattamenti veramente molto degradanti. Bene, lei grazie alla connessione con le persone che ancora in Siria sono e grazie all'utilizzo dei media sociali sostanzialmente del digitale permette alle compagne che ancora sono in Siria di farle sentire comunque vicine e di dar loro anche una visione del mondo che non sia esclusivamente chiusa su ciò che stanno vivendo. È uno dei grossi problemi di paesi come la Palestina ad esempio che sono stati per decine di anni chiusi esclusivamente sul loro punto di vista. Il fatto di poter mettere in connessione la loro vita con la nostra dà un grande senso di speranza e di apertura e questa attivista siriana ci ha raccontato che lei si è trovata a Riccione sulla spiaggia e ha fotografato dei bambini che giocavano e ha mandato via Twitter queste foto alle sue amiche attiviste in Siria che in quel momento stavano sotto le bombe e ciò le ha rese estremamente felici e le ha dato una forza enorme. Questo vi dà la misura di quanto poco basti e quanto invece tanto possano fare le tecnologie per sostenere il nostro attivismo per aiutare queste persone, in particolare queste donne, in un processo storico assolutamente fondamentale perché le primavere arabe non sono finite, sono in corso anche se se ne parla un pochettino meno, ma non è stata una, come dire, una stagione che si è conclusa. È un grandissimo processo che probabilmente continuerà per molti e molti anni ma di cui le donne sono protagoniste perché sono effettivamente loro il motore di questo cambiamento. Grazie. 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 Grazie.